Ciao ragazzi, sono Red. E io sono War. E bentornati al Monopoly Softair Shop. Bravissimo. Improvvisata. Cioè, wow. Siamo qui oggi per fare un video re-action, che sinceramente speravo di non dover fare di nuovo, però ci dà l'occasione per parlare un pochino dei temi caldi. Io farò un Warreak su una persona, essenzialmente. Ovvero, andremo a parlare del video che ha fatto uscire Marco Tomasin, che io tra l'altro seguivo quando faceva ancora, tipo, prova ad entrare, a chi faccio l'allenamento. Qualche video, nonostante YouTube, non lo guardi così tanto, qualche video l'ho visto anch'io, dirlo a tu. Commenteremo un suo video che è diventato abbastanza famoso nell'ultimo periodo, dove parla di videogiochi, armi, violenza all'interno dei videogiochi. Esatto, appunto, che il Softair è sempre stato come una volta lo erano i videogiochi, adesso lo è tranquillamente anche il Softair. E poi in quella zona di luce ed ombre, un po' sempre criticato dai più. Giocate alla guerra. Fate la guerra, vi ammazzate, quindi prendiamo la palla al balzo e cerchiamo di collegare quello che è il nostro settore, il nostro sport, la nostra esperienza in merito, esatto, a una cosa che non è direttamente collegata, ma è un ottimo spunto di riflessione. Cominciamo, guardiamo degli spezzoni di video, ma ovviamente prima, sigla! Mi hai rotto le balle però, eh? Cioè, com'è possibile? Com'è possibile che non sei iscritto al canale e non sai che siamo al Monopoly Softair Shop di Reggio Emilia? Negozio di... Lui non sa che non sono davvero iscritto. Monopoly Softair Shop dove abbiamo attrezzatura sportiva... Di guerra? No! Da softair, outdoor, militare, tante cose che possono interessarvi e che non servono a uccidersi a vicenda, quindi è tutto nel... Ma sia la dopamina. Va bene, guardiamo il video. In più, un'altra cosa di cui mi sono accorto è il contenuto di questi giochi. Le armi, l'uccidere, sono idolatratti, sono... Sono... Sono resi comuni. Cioè, ogni stato di gioco, o sulla quale passi molto tempo anche tu, ha come obiettivo ammazzare altra gente. Eccoci, questo è il primo punto che mi ha fatto veramente girare le scatole. Perché definire e dire che giochi come Call of Duty, ma anche Fortnite, per citarne uno che mi fa veramente schifo, promuovono uccidere e le armi da fuoco in generale, la violenza mi sembra veramente fuori di testa. Perché, se così fosse, vorrebbe dire che io accendo la mia console, prendo il mio joystick, mi metto a giocare e vengo catapultato in un gioco dove non è minimamente rilevante chi io sia, cosa stia facendo, ma che uccidere qualcosa mi dia piacere e questo non è. Infatti, tutti questi giochi, anche i live service all'interno dei quali si può effettivamente uccidere, sparare, fare tutte queste cose, hanno un elemento importantissimo, ovvero la trama. Ci viene dato un ruolo, ci viene dato un personaggio da interpretare che in ogni caso ci permettono di avere dietro di noi una motivazione. Stiamo interpretando un personaggio. Ed è la stessa cosa che succede quando guardiamo un film, quando leggiamo un libro, che parla e ha questo tipo di temi, ovvero violenza, non armi da fuoco, perché la violenza, che è un punto che si gestirà dopo, non si fa solamente con le armi da fuoco, si può fare con un martello, come con una spada, come con una canna da pesca. Inoltre, banalizzare tutti i videogiochi e parlare in generale come tutti i videogiochi esaltino la violenza e le armi in generale mi fa molto ridere. Sarebbe veramente come dire che uno va in palestra solamente per poter bombare di più perché diventa più bello. Mentre si fa i tacchi. Mi sembra che ci siano molte altre motivazioni. Sia chiaro, io ci ho giocato a Call of Duty, ci ho giocato tanti anni della mia vita. Quando avevo 12 anni e uccidere 30 persone con una mitragliatrice era una cosa stranormale. È facile! Vanno più lenti, vieni più vicino! Questa è un'altra cosa che mi ha fatto sorridere. Ha giocato a Call of Duty a 12 anni che è un po' come la battuta del non sono razzista, perché io ci sono stato in Africa. Cosa vuol dire? Non ho sperimentato una cosa molto tempo fa, hai un ricordo probabilmente neanche tanto corretto perché l'effetto nostalgia lascia molto il tempo che trova ed è nota anche una mancata conoscenza di quello di cui si sta parlando. Tutto questo per arrivare a parlare di un punto che a me e War è molto caro, ovvero l'idealizzazione delle armi. Sono entrato alla Games Week ho visto su un muro un'arma enorme, un'arma enorme che veniva messa in una maniera fighissima. La violenza anche su questi videogiochi è idolatrata, è resa normale, è resa straisi. Ah, un altro punto interessante. Un'arma, un'arma in generale, messa lì, esposta per essere idolatrata, amata dalle persone. Capiamo un pochino meglio questo tema di violenza e armi in generale nella cultura di adesso. La violenza, a parer mio, a parer nostro, è una cosa che secondo me abbiamo sempre avuto dentro. Ci sono molti scritti, molte opere anche cinematografiche riferimenti a questo. Io credo che la violenza sia sempre stata nell'uomo così come di conseguenza l'arma. Nei primi graffiti, porco demonio, sono raffigurate scene violente. Il nostro, lui parla molto dell'arma a fuoco, come la vecchia di turno parla della replica software paragonando all'arma vera. Sempre lì è il punto. L'arma da fuoco è attualmente in questi ultimi almeno due secoli l'arma dell'uomo, ok? Dell'uomo non inteso come uomo, della specie umana. Non è una questione di genere. Esatto. 4.000 like, video sulle questioni di genere. Esattamente come secoli fa l'arma era l'arco, la lancia, il sasso. Ma non è che questo gentiluomo ha fatto un video contro Street Fighter. Bro, Street Fighter è dove si pesta una sangue sulla banchina della metropolitana. Se io dovessi scegliere tra ricevere un colpo d'arma da fuoco e essere pestato a sangue sulla banchina, preferisco la prima. Quindi non puoi venirmi a parlare, criticare le armi da fuoco e non parlare loro di tutta la violenza, perché dovresti parlare poi di tutta la violenza del genere umano, ok? Diventa un video dove neanche tu ci arrivi. Chiudendo il discorso dell'arma da fuoco, l'arma da fuoco è uno strumento. No, legalmente è un'arma. Questi sono strumenti. Uno strumento può piacerti per 2.000 motivi diversi. Ti faccio un esempio. Chi colleziona coltelli è improbabile che il suo obiettivo sia ficcarli tutti nello sterno di... Eh io, questo forse non posso dirlo. A me personalmente piacciono determinati tipi di macchine. Mi piacciono i motori. Non mi piace andare in pista. Mi piace l'arma. Non mi piace andare in guerra. Mi piace la meccanica dell'arma. Non mi piacerebbe mai la guerra. Sono due cose che vanno scisse. Cioè, noi stiamo qua a discutere delle armi da fuoco ma i simp, i simp sono il vero motivo per cui questa società sta andando a rotoli. Arma, le armi servono per ammazzare la gente letteralmente e in America c'è gente che entra nelle scuole e ammazza 20 persone. Ovviamente, sicuramente ci sono degli altri problemi ma posso, ripeto, metterci delle mani sul fuoco che anche i videogiochi gli sparatutto questi giochi in cui ammazzi continuamente le persone hanno un'influenza super negativa su questi ragazzi che poi entrano e fanno questi macelli. Questo è un punto importante per collegarmi anche a quello che ha detto War ovvero uno strumento. Strumento di morte? Sì. Strumento di difesa? Altrettanto. E l'utilizzo che io ne faccio in un videogioco quindi non deve essere solamente identificato come strumento di morte grosso fucile grosse kill. Assolutamente no. perché è sbagliato per il motivo che dicevamo prima c'è una trama c'è una motivazione che mi porta lì. Per lo stesso processo logico quando la domenica vado in campo e alleno la squadra o gioco delle partite io non sto pensando voglio fare dei punti voglio vincere questa partita quindi devo colpire il mio avversario ma dovrei star pensando oh vaca boia che bello guarda quanti eronimi da uccidere. Quando state giocando a Call of Duty e vi capita la mappa è l'asilo non è che siete lì a dire oh c'ho proprio voglia di infanticidio sono modi di vincere una partita e che non vi piaccia l'idea di dover eliminare dei personaggi eliminare dei giocatori per vincere ci sta a me fa schifo il calcio e il sistema per fare punti lì non ha niente a che vedere con lo sport che faccio infatti. Ora non vorrei che sembrasse che stiamo andando fuori tema perché stiamo continuando a parlare di videogiochi ma quando parliamo di videogiochi ci stiamo riferendo alle armi in generale e al nostro sport che è sostanzialmente un Call of Duty nella vita vera perché è quello che ci sentiamo dire in continuazione giocate con le armi le armi sono una cosa brutta le armi non le vogliamo vedere ed è corretto ma queste non sono armi e le armi sono uno strumento lo posso usare per andare a caccia lo posso usare per andare agli olimpiadi e competere posso andare a fare tiro al piattello posso farci tante cose e stigmatizzare un qualcosa rendendolo unico con un unico significato è ovviamente sbagliato un'ultima piccola nota è che Marco non parliamo di masciuti non tiriamo in ballo queste cose qui io purtroppo per fortuna ho sempre avuto un interesse verso queste cose mi avevano affascinato li ho studiati ho cercato di capire come fosse possibile ho visto Elephant a proposito di Kevin tutti i film leggeri che non vi consiglio e non parliamo di videogiochi quando parliamo di masciuti perché non c'entra assolutamente nulla nulla occlusioni finali l'importante e con questo iniziere le conclusioni è non fare del male al prossimo esatto io direi anche avere controllo perché gli esempi che vengono portati sono completamente fuori controllo controllatevi in qualsiasi cosa facciate specialmente dove c'è più bisogno il software spesso ti mette a dura prova il tuo autocontrollo il software in particolare ti insegna tante di quelle virtù l'importante è che ti stai divertendo subentra il controllo di cui ha parlato Fox c'è una squadra c'è un team di persone quindi c'è anche quello delle regole c'è tutto un ecosistema sano a tal proposito vi lascio con l'ultima massima incredibile ovvero il software siete voi tutte le volte che andate a giocare quindi per piacere evitiamo di fare delle sciocchezze fortunatamente non si sente più gente che spara dal balcone si fa arrestare quando andate a giocare voi rappresentate il vostro sport e dovete essere responsabili noi vi ringraziamo di essere stati qui con noi fateci sapere se questo tipo di contenuto vi possa interessare avete il box dei commenti avete Instagram box dei commenti è il vostro momento di rage quindi se avete bisogno di dire qualcosa ditela con rispetto e controllo come abbiamo appena anche per fare delle domande se proprio non volete sbroccare ci sono anche i pollicioni da mettere quindi mettete like quindi iscrivetevi mettete like e fateci sapere cosa ne pensate è un video diverso speriamo che possa attecchire nei vostri cuoricini stay angry ma no fermazione mi sono dimenticato a parlare dell'holifance di quella che parla in corsivo c'è quello che gioca a gta solamente per pestare le puttane ok io ero uno di quelli sigla ormai ormai il tuo timing ce l'ho nel sangue è un video